Ciao a tutti, io sono Amelia e questo è un nuovo Tessiland News. Ed ora insieme andremo alla scoperta di una grande novità in casa Tessiland. Il suo nome è Tessilite, un nome assolutamente non lasciato al caso. Tessil ovviamente ci riporta al filato. Light invece rimanda la sua principale caratteristica, la leggerezza, ma anche la semplicità e la raffinatezza, caratteristiche che lo rendono perfetto per la creazione di bijoux. Ecco qui il nostro Tessilite, un filato sottile composto al 100% da cotone. Il suo spessore è infatti di solo 0,4 mm e si presenta in un roll da 50 metri. Un filato quindi molto sottile ma al tempo stesso morbido al tatto e molto resistente. Si presta infatti a diversi tipi di lavorazione. Pensate ad esempio all'inserimento al rosario, dove per la lavorazione consigliamo ad esempio un uncinetto piccolino come quello da 0,60. Per la lavorazione di bijoux invece consigliamo un uncinetto tra il 0,75 e il numero 1, valutando poi in base alle proprie esigenze e alla mano che si tiene. Il Tessilite è quindi pensato per gioielli raffinati e leggeri, ideale ad esempio anche per il rivestimento delle basi metalliche. Vi permetterà quindi di avere delle lavorazioni molto dettagliate e al tempo stesso luminose e resistenti. Un filato così versatile non poteva quindi che presentarsi in diverse colorazioni. Andiamole a scoprire tutte. Iniziamo con oro damasco, oro avorio, lino, il platino e l'argento. Passiamo ora all'ottone champagne, ottone avorio, oro champagne ed infine ottone albino e ottone damasco. Passiamo poi all'oro albino, il rosa aureo, il rose gold, bronzo rosato e rosa antico. Per concludere abbiamo il ceruleo, il verde, ottone damasco, il bronzo ed il cipolla. Tantissime sfumature da utilizzare da sole o divertendosi a giocare creando dei giochi di luce e di sfumature. Principale caratteristica infatti di questo filato, oltre alla leggerezza, è sicuramente il fatto di essere molto fine. Questo vi permetterà di utilizzarlo anche con cristalli molto piccoli, ma anche di creare dei dettagli molto minuziosi e preziosi. Questo anche grazie alla particolare tecnica di filatura a spiralino, che vi permetterà infatti di eliminare completamente il rischio di apertura del filato. Con il tessi light potrete divertirvi a sperimentare diverse tecniche, come la lavorazione a rosario, il rivestimento di basi metalliche e dare così vita a ogni genere di bijou. Dagli orecchini, che saranno quindi leggerissimi, collane o bracciali, ma anche perfetto per impreziosire con dei piccoli dettagli degli accessori, come ad esempio dei portachiave o dei bijou da attaccare alle vostre borse. Atteniamo quindi di vedere tutte le vostre creazioni e vi ricordiamo come sempre di condividerle con noi sul nostro gruppo ufficiale Tessiland, ma seguiteci anche sulla pagina Facebook meglio di Maya, non dimenticate di attivare la campanella sul canale YouTube e di seguirci su Instagram, TikTok e Pinterest. Al prossimo Tessiland News! Al prossimo Tessiland News!